Un nuovo Senato per una nuova Costituzione con la riforma approvata a Palazzo Madama si chiude l'epoca del bicameralismo perfetto. In futuro saranno soltanto i deputati a votare la fiducia e ad esercitare la funzione legislativa e politica. Il Senato invece rappresenterà le istituzioni territoriali e sarà composto da 100 membri a differenza dei 315 attuali. Di questi 21 saranno scelti tra i sindaci, 74 eletti dai consigli regionali su indicazione dei cittadini e 5 dal Capo dello Stato cambia anche il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica. I nuovi senatori inoltre manterranno l'immunità ma non percepiranno indennità, mentre per la ripartizione dei seggi a livello regionale si va dai 14 della Lombardia, i due ad esempio di Liguria ed Abruzzo. Nasce così un'Italia più forte, sottolinea un soddisfatto Matteo Renzi che alla Camera torna a parlare dell'emergenza, immigrazione alla vigilia del vertice europeo. Possiamo dire con molta chiarezza, senza troppi giri di parole, che sulla questione dell'immigrazione l'Italia aveva ragione, l'Europa e il resto d'Europa no.